Qui bisognerebbe cominciare un po' a dire la verità, secondo me Stellantis alla fine lascerà l'Italia, questo dice Cottarelli. Partiamo subito da qui così teniamo anche quello che è avvenuto pochi secondi fa. Sì, allora mi sento di, mi spiace di smentire il professor Cottarelli, nel senso che dal 2021 Stellantis in Italia ha già investito 6 miliardi, quindi lasciare l'Italia dopo aver investito 6 miliardi, 6 miliardi soltanto per le attività di installazione di nuovi impianti, per lanciare nuovi prodotti, nuovi modelli di automobili. 3 miliardi sono andati all'indotto e alla componentistica, quindi un impegno finanziario molto importante. Ricordo che Stellantis si basa su tre pilastri fondamentali, questo lo dice il nostro amministratore delegato tutte le volte che ha occasione di parlare, che sono l'Italia, la Francia e gli Stati Uniti. E quindi il piano strategico si rivolge prevalentemente a questi paesi, ovviamente l'Italia è un asset importante. Perché Cottarelli diceva ormai diciamocelo, Stellantis parla francese, l'headquarter, tutto è concentrato in Francia. Lei invece oggi vi dice no, ci sono tre pilastri, abbiamo investito e qui vogliamo rimanere, lo possiamo dire, manca, Stellantis, due punti, vogliamo rimanere in Italia? Sì, lo possiamo dire. Ottimo, partiamo da qui, nel giorno in cui c'è lo sciopero, sorride Fratelli Italia. No, 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 non sorrido, anzi me lo auguro che sia così. Però ecco, insomma, mi sembra che stiamo vivendo delle giornate che sono state annunciate purtroppo da noi da tempo. Lei ha detto prima, Stellantis oggi viene attaccata, se si può parlare di questo termine, da destra e da sinistra. Diciamo che oggi anche la sinistra si è finalmente resa conto che l'operazione che è stata fatta nel 2019 e poi conclusasi nel 2021 con il Conte II al governo, bisogna ricordarlo, perché è lo stesso signore che oggi è in piazza insieme ad altri esponenti della sinistra, era un'operazione assolutamente... Conte Landini intanto, vedete, in diretta dalla piazza a Roma. Perché non è stato messo il golden power come richiedeva Fratelli d'Italia già nel 2019 per evitare che Stellantis poi si trovasse ad avere sostanzialmente le mani libere, perché oggi il tema è che lo Stato italiano è oggettivamente in una condizione di debolezza nei confronti di un'azienda che può fare esattamente quello che vuole. Allora, questo lo vediamo. Prendiamo però le dichiarazioni del capo, del responsabile delle risorse umane di Stellantis e da qui dobbiamo partire, perché ce l'ha detto molto chiaramente. Noi qui vogliamo investire, vogliamo restare. Vediamo cosa succede a Pomigliano nel servizio che abbiamo preparato.